Exo Rattics, oggi siamo qui, Skoda Kamik, si tratta di un 1000 TSI 110 cavalli, allestimento Ambition. Si tratta di un'auto immatricolata nel 2021, motore benzina con solamente 13.300 km l'attivo, colore race blue. Andiamo a fare un giro e vedere questa bellissima Skoda Kamik. Lunghezza a 424 cm per una larghezza di 179 cm e un'altezza di 1,56 m. Adesso andiamo a vedere il bellissimo bagagliaglio, molto capiente, si tratta di 400 litri di capienza. L'auto, come potete ben vedere, è provvista anche di sensori di parcheggio posteriori, oltre che questi bellissimi cerchi in lega. Andiamo invece a vedere i bellissimi interni di questa Skoda Kamik. Come potete vedere, i sedili sono in tessuto. Questo è il cambio automatico DSG di Volkswagen e del gruppo Volkswagen. Appunto questo è lo schermo touch con le varie app e la possibilità di connettersi con Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto. L'auto è prevista anche di comandi al volante, quindi ha il cruise control, il lane assist e appunto c'è la possibilità di regolare anche il volume sia in chiamata che appunto per quanto riguarda la radio. Come per tutte le nostre auto, anche per questa stupenda Skoda Kamik, la potete trovare sul nostro sito. Quindi andate su www.ratix.com per scoprire tutte le nostre novità. ExoRatix!